Allora, questa è una bella domanda, perché Smith considerava la teoria dei sentimenti morali il suo miglior libro. Lo ha scritto ben prima della ricchezza delle nazioni, la ricchezza delle nazioni del 1776, la teoria dei sentimenti morali del 1759, se non vado errato, ma penso di non sbagliarmi. E la teoria dei sentimenti morali è ancora una volta un'indagine di filosofia morale. È un'indagine di filosofia morale che letta insieme alla ricchezza delle nazioni. È molto utile, perché? Perché in questa analisi, che è un'analisi che prende molto sia dall'illuminismo scozzese che dall'aristotelismo, Smith introduce un principio che è quello della simpatia, che noi forse oggi tradurremo con empatia. E cioè, gli uomini non sono egoisti, quindi per questo il self-interest è diverso dall'egoismo. Quando si dice il capitalismo, il liberismo è la teoria dell'egoismo e così via. Non è vero, anzi, anzi. Per Smith, gli uomini provano un'empatia nei confronti degli altri uomini. E quindi, quando capita qualche cosa ad un altro, ci si immedesima in quell'altro. Ad esempio, se gli capita qualcosa di male. E si prova un'empatia nei suoi confronti. E questo è un qualche cosa che viene dal nostro giudizio morale. Poi, naturalmente, più qualcuno ci è vicino, più l'empatia aumenta. E perciò, questo spiega come mai, se uno casca per strada e si fa male, e uno è un passante che sull'altro marciapiede guarda, ma, insomma, non è che si sente male per lui. Se uno è lì vicino, magari è un conoscente, è il droghiere dal quale la persona va sempre, beh, va lì, lo aiuta, si sente un po' più in dovere. Se uno è la mamma del bambino o il figlio della signora, invece è preoccupato e si avvicina di più. Ma questo non toglie niente al fatto che ci sia questa simpatia che si sviluppa nell'uomo e fa sì che si cerchi di immedesimarsi nell'altra persona. Quindi il nostro giudizio morale deriva dal fatto che noi ci immedesimiamo con l'altro e ci chiediamo che cosa faremmo noi al suo posto come reagiremmo e se approviamo la reazione dell'altro allora, come dire, ci immedesimiamo. Se non la approviamo diamo un giudizio morale, come dire, negativo. Però questo non porta necessariamente a un relativismo morale perché Smith pensa che la moralità non sia una moralità di tipo kantiano, che è una moralità razionale, ma è una moralità di scoperta, cioè sostanzialmente l'esperienza umana che fa sì che noi scopriamo cosa è morale, che cosa è giusto, dovendo stare attenti anche a quelli che sono le consuetudini, i costumi, le credenze della società. e noi grazie a questa esperienza mano a mano ci formiamo una moralità. È un processo di scoperta. E in un modo abbastanza popperiano, se vogliamo, applica una sorta di teoria della falsificazione anche alla moralità, nel senso che forse non riusciamo a capire esattamente quello che è giusto. Però sicuramente siamo in grado di dire attraverso questo processo di scoperta quello che non è giusto. Quindi la razionalità per la moralità ha un ruolo più limitato di quanto invece c'è nella costruzione kantiana. E anche qui viene, anzi la prima volta che viene introdotta la mano invisibile è nella teoria dei sentimenti morali, perché nella teoria dei sentimenti morali che si dice che è la mano invisibile che fa sì che anche l'avidità dei ricchi e il loro desiderio di accumulare ricchezze, consumare, eccetera, eccetera, fa sì che questo poi possa essere in qualche modo distribuito agli altri. Quindi sostanzialmente l'avidità in termini moderni fa sì che si crei la ricchezza e una volta che si crea la ricchezza, questa ricchezza poi diventa a disposizione della società, perché naturalmente Smith non ritiene che la ricchezza vada tesaurizzata, ma poi ritiene che appunto i ricchi la mettano in circolazione in qualche modo, non tanto per il consumo, perché lui dice, non è che il ricco consuma 300 volte il povero, c'è un limite a quanto lo stomaco del ricco, dice Smith, può contenere. E quindi appunto, ecco qui questa mano invisibile che fa sì che in questo caso l'avidità e anche la vanagloria del ricco riesca ad avere un effetto benefico per la società. L'altra cosa molto preveggente è la teoria dello spettatore imparziale. Se noi ci pensiamo, poi Freud con S, ego e super ego, dirà qualcosa di simile. Lo spettatore imparziale è una scissione dell'io, secondo Smith, per il quale c'è un nostro io che fa da spettatore è un nostro io agente e noi per giudicare quello che facciamo dobbiamo staccarci da noi stessi e metterci in una posizione di spettatore imparziale. Se io fossi uno spettatore imparziale approverei quello che sto facendo. Qui ci sono alcuni rimandi allo stoicismo volendo, però se io fossi uno spettatore imparziale approverei quello che sto facendo. Poi naturalmente l'imparzialità ha dei limiti. Perché? Perché la conoscenza dell'uomo è limitata, perché l'uomo non è Dio, l'imparzialità non è una caratteristica divina, ma sicuramente come elemento di una filosofia morale e di un comportamento morale c'è quello di avere quell'autocontrollo e quel giudizio spassionato attraverso la separazione del proprio se in un soggetto agente, in un actor or agent, perché li utilizza tutti e due come dire in modo con lo stesso significato, e uno spettatore imparziale. e quindi quando si agisce trattieni il respiro, conta fino a, come si dice anche, conta fino a dieci, trattieni il respiro, guarda bene quello che stai facendo e giudica se è un qualche cosa che se vedessi fare a qualcun altro tu giudicheresti bene o male.